Dopo il fermo di Marco Iannone e di Francesco Manzo, le immagini che vedete sono relativi al loro arrivo. Ieri mattina alla caserma Pisacane di Salerno si è costituito anche Mario Tortor, appena 23enne, vicino a Iannone, indiziato di aver partecipato ad uno degli atti di quella che era diventata una vera e propria guerra fra bande per il predominio del mercato dello spaccio a nocere inferiore. Manzo e Iannone, su fronti opposti, per ironia della sorte, sono le due persone rimaste ferite in questa rese dei conti iniziata a settembre scorso, insieme a Tortora, sono indiziate di essere fra gli autori di questa guerra senza quartiere. In azione, gli agenti del commissariato di polizia di nocere inferiore, quelli dell'investigativa, che da giorni seguivano le evoluzioni delle due opposte fazioni in guerra, insieme ai colleghi della Mobile, che hanno eseguito i due fermi di ieri disposti dal PM Vincenzo Senatore della DDA, un lavoro di squadra che ha dati risultati attesi in tempi brevissimi. Il sindaco di Nocera aveva espresso le sue più vive preoccupazioni per quello che stava accadendo, perché ovviamente quando accadono i fatti di questo tipo la gente non esce di casa, quindi si creano delle situazioni veramente antipatiche e quindi lo Stato doveva dare una risposta forte e l'ha dato sia sotto il profilo dell'attività di prevenzione, perché noi abbiamo implementato i servizi con i reparti di prevenzione crimine, con le volante del territorio, ma sia sotto il profilo giudiziario che risposta che è avvenuto appunto con l'esecuzione di questi provvedimenti restrittivi della libertà personale. Ripristinata la legalità, Nocera dovrebbe ritornare la calma in quella città trasformata in un far west, una risposta importante dello Stato che parte comunque da lontano, indagini avviate già nel 2014. Indagini che non sono ancora finite, dice il procuratore Capolembo, e se si è premuto il piede sull'acceleratore è stato per fermare un fenomeno che aveva creato un diffuso allarme sociale. Sì, ecco perché questa risposta tradotta in provvedimenti giudiziali può apparire parziale, perché affronta solo episodi specifici a cui è collegata la prova specifica dei fatti. Però ecco, la gestione delle indagini comporta un'attività di intelligence che mira a collocare, come su una scacchiera, tutti i singoli episodi per dare a ciascuno di essi un senso compiuto e quindi per comprendere più a fondo quelle che sono le dinamiche criminali, per contrastare nel modo migliore. Grazie 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 Grazie